Il segreto Il segreto, anticipazioni 23 28 aprile, Julieta denuncia Saul Le anticipazioni Cancelletto Il segreto ritornano per raccontarci la trama delle nuove puntate della Cancelletto Soap Spagnola, in onda su Canale 5 tra il 23 e il 28 aprile 2018 L'episodio del 25 aprile non andrà in onda per via della festa della liberazione Ma ecco in dettaglio che cosa ci aspetta. 23 aprile Mattias racconta la verità ad Emilia, il ragazzo dice di aver rivisto Beatriz, ma solamente per ribadirle che tra loro è tutto finito La figlia di Ernando ritorna distrutta allo Smanantiales, mentre Mattias regala un orsacchiotto di peluche a Marcella Un oggetto che la giovane desiderava fin da quando era piccola Aquilino comunica ad Ernando che ha appena affittato un'abitazione in paese, ma poi rivela a Beatriz che l'ho fatto per poter restare solo con lei. 24 aprile Giulietta si rivolge ad Adela e Carmelo, chiedendo loro se sia il caso di denunciare Saul per aver provocato l'incendio che ha ucciso sua figlia, visto che su di lui ha solo dei forti sospetti, ma ancora nessuna prova Nazaria si accorge che il marito ha mentito a Francesca per scoprire il nuovo indirizzo di fe Nel frattempo, all'Empore arriva una lettera dalla Russia per Dolores La felicità iniziale della donna di avere notizie del marito si trasforma presto in dolori, quando scopre che Pedro le ha spedito i documenti da firmare per il divorzio Anticipazioni Il Segreto. 26 aprile Le cancelletto Anticipazioni Il Segreto ci dicono che Beatriz è infelice perché ha appena saputo che Mattias farà un viaggio con la moglie Nazaria rivela alla Montenegro che Fe e Mauricio si sentono di nascosto Giulietta è ancora indecisa se denunciare Saul per l'assassinio di Ana, mentre Severo e Carmelo sono disposti ad appoggiarla anche se sanno che questo potrebbe procurarli dei guai 27 aprile, ore 16.30 Mentre tutti sono pronti a partire per l'Ordes, Dolores decide di rinunciare al viaggio perché è affranta per la domanda di divorzio di Pedro 27 aprile, ore 21.25 Decisa a non far vedere agli altri quanto sta soffrendo, Dolores fa credere a Ippolito che quello della lettera è solo uno scherzo Intanto Giulietta rinuncia a denunciare Saul, ma gli comunica che il loro amore è morto assieme alla piccola Ana Aquilino prosegue a fare il cascamorto con Beatriz, mentre Camila e Bernando, che sono al settimo cielo per la gravidanza, si regalano un momento di intimità Giulietta realizza che non è stato Saul a provocare l'incendio, e i due ritornano finalmente insieme I familiari sono preoccupati per Dolores, mentre Aquilino e Beatriz proseguono la loro relazione clandestina. 28 aprile Camila e Bernando vengono a conoscenza delle voci che circolano in paese sul conto di Beatriz Intanto Giulietta chiede a Saul di intercedere presso Francisca, affinché questa regali ai poveri la frutta che altrimenti marcirebbe sugli alberi Camila e Adela sono preoccupate per l'ingenuità di Giulietta, mentre Ippolito ha paura che la notizia del divorzio possa nuocere alla salute della madre Il nostro appuntamento con le anticipazioni del segreto per ora termina qui Per non perdere i prossimi, basterà seguire il canale premendo sul tasto Segui in alto l'articolo Ancina per la News